Ciao! Per preparare velocemente dei soffici pancakes alla banana, versa in una ciotola un bicchiere di farina, un cucchiaio di zucchero semolato, due cucchiaini di lievito per dolci e un quarto di cucchiaino di sale. Mescola con una spatola e in una seconda ciotola versa un uovo, un bicchiere di latte, due cucchiai di olio di semi di girasole, mescola brevemente e poi versa la purea di due banane schiacciate con la forchetta o frullate. Mescola le polveri con il composto liquido e otterrai una pastella leggermente grumosa. Scalda una piastra o una padella leggermente oliata a fuoco medio alto e quando sulla superficie dei pancakes si formeranno delle bollicine potrai procedere alla cottura del lato superiore. Servi i pancakes caldi con sciroppo d'acero o miele e banane rondelle. Guarda il prossimo video e iscriviti al canale. Grazie a tutti.